Abbiamo portato delle catene, dei lucchietti, a parte le battute. Anche lui arriva con grande autostima, fiducia a questa finale, perché nelle ultime gare in Europa sia lui che la squadra hanno fatto davvero un grande lavoro, un grande percorso. Come noi del resto che arriviamo imbattuti, anche loro nelle ultime partite hanno fatto delle prestazioni grandiose battendo in semifinale una delle favorite alla vittoria finale, arrivandoci con prestazioni di alto livello. Lui sta segnando con regolarità, è pericoloso sotto tutti i punti di vista, lontano dall'aria, dentro l'aria, attacca la profondità. Sta bene, sappiamo che è un punto di forza del nostro avversario, insieme a tanti altri aspetti. Abbiamo cercato di preparare degli aspetti tattici che possono limitarlo. E come però ho detto prima, facendolo con attenzione e massima bregazione, possiamo farlo. Se scendi in campo, mettendo dentro queste caratteristiche, questo giocatore ti può mettere in difficoltà. Soprattutto per il fatto, ripeto, che ha una grande fiducia datagli da questo finale di stagione strepitoso per lui. Penso che quello che mi hanno sempre sentito dire in tutti questi tre anni, dentro e fuori il centro sportivo, negli spogliatoi, in campo, è quello che l'identità non la dobbiamo mai perdere. Queste sono partite dove, anzi, a maggior ragione devi mostrare quell'organizzazione e quel pensiero, quel credo calcistico che ti ha permesso di arrivare a giocarti una finale. Però, a livello individuale, degli aggiustamenti, degli adattamenti a quello che è una finale. Massima percezione di tutto ciò che può essere il pericolo, massima concretezza, massima concentrazione in tutto quello che si va a fare, anche da un semplice fallo laterale, battuto bene, messo nei piedi, nella maniera corretta al compagno. Questo per me è dettaglio. A livello individuale, modificare qualcosina, perché è una finale, perché non c'è più tempo per replicare. E quindi identità, e se ci aggiungono altra roba, furore, furore agonistico, furore perché quello non deve mancare. La partita è troppo importante, quindi va applicato grandissimo furore agonistico. Il senso di rivalza sicuramente, ma c'è anche da parte di tutti quelli che c'erano l'anno scorso, a partire dal mister, a partire dai compagni, dalla società, da tutti quelli che lavorano intorno a noi, dietro le quinte. Tutti hanno questa voglia di rivalza e di cambiare un risultato che l'anno scorso magari non meritavamo. Che però purtroppo, essendo una finale, abbiamo fatto qualche errore di troppo in più di loro e quindi siamo stati giustamente puniti. Abbiamo grande voglia di rivincita, di fare una grande partita, di portare via questo trofeo, come ho detto prima, per tutto, per tutto il lavoro che abbiamo fatto in questi tre anni col mister, per tutto l'affetto e l'amore di Firenze che ci hanno dimostrato in questi anni, per gente che purtroppo non c'è più. Abbiamo tanti motivi, le motivazioni sono tante e la voglia di rivale se è tanta. Ora non rimane che arrivi il prima possibile la partita perché poi una volta che sei qua la vuoi giocare subito. Siamo qui e vogliamo vincere.